Non fa caldo ragazzi, meno male che non fa caldo, a certo punto tra le cose più calde che ho vissuto in questi anni è quando mi arriva il mi babbo che mi fa Ascolta Bellino, ma te da grande cosa vorresti fare? Io vorrei fare il rock and roll naturalmente, no? Tu devi trovarti un lavoro, studiare, fare un lavoro normale, mettere su famiglia Ma allora, non ci basta? Babbo, rispetta le mie idee, cazzo! Ciao! Ancora anche più o meno assassino, ma più difficile è cambiare un'idea Il mio sogno è un taglio al letto, ho tutto e voglio che sia più reale Potrei stare ore e qua e parlare in silenzio, ma più difficile è cambiare un'idea Un'idea se non è reale ma il sogno è un braveste dice ogni cosa vivente e non toglie la paura rispetto a me rispetto a me rispetto a me